In Sicilia l'estate diventa ogni anno la stagione sinonimo di incendi e devastazione. Le temperature elevate degli ultimi giorni sono così un campanello d'allarme. Ettari di patrimonio boschivo sono a rischio e sul problema a lanciare un messaggio di allerta per prevenire le conseguenze è il segretario generale Cisle di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Emanuele Gallo, che dichiara Abbiamo ancora negli occhi quanto successo lo scorso anno a Enna, Provincia martoriata da diffusi incendi che hanno mandato in fumo ettari ed ettari di vegetazione che hanno bruciato la fauna, causando ingenti danni alle aziende agricole e arrivando a lambire pure le abitazioni. Gallo conclude infine dicendo il territorio si difende con la prevenzione. Una richiesta chiara, quella della Cisle, di un programma ben strutturato per evitare le ripercussioni sull'economia rurale, agroalimentare e ambientale. È sempre la sigla sindacale a denunciare l'assenza di una strategia organica e preventiva che riguardi il comparto forestale potenziando la sorveglianza del patrimonio boschivo. Chiedono inoltre una stretta esemplare sulle pene da applicare agli eventuali piromani.